Sei già dimostrato in Italia di avere un'attima condizione, come stai oggi? Vediamo, ripescato in extremis, non dovevo essere qui presente per oggi, però è una buona opportunità e vediamo poi come sarà lo svolgimento della gara, come andrà, se ci sarà magari una fuga in partenza o qualcosa del genere, è comunque un percorso abbastanza ondulato. Avete preso la gara e le strategie della sua gara? No, comunque c'era già una strategia di gara, comunque resteremo su quella linea, però sicuramente vedremo, c'è sempre un po' di spazio anche per l'inventiva in gara e vediamo di gestire un po' la corsa in base a come sarà la fase di gara nel finale. Sicuramente vedendo il percorso lascia spazio a tanti attacchi, quindi è difficile poter dire un nome secco, comunque ci sono tanti corridori che stanno molto bene. Grazie, ciao! Ciao Vincenzo!